Essere parte di un gruppo vuol dire condividere valori e impegno per lo sviluppo comune. Siamo nati con l'obiettivo di far crescere persone e aziende, condividendo esperienze. Crediamo che ogni storia rappresenti una singolarità che merita cura. Questa è la nostra missione. Oggi siamo ancora più forti e continueremo ad esserti accanto. Siamo parte di un gruppo e sappiamo distinguerci. BCC San Marzano di San Giuseppe. Credito cooperativo italiano. Più di una banca. Grazie. 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 Grazie.